Aumenta la tensione tra i coinquilini del grande fratello e in particolar modo tra Alfonso d'Apice e Stefano Tediosi, rispettivamente ex e attuale ragazzo di Federica Petagna. Trovarsi tutti e tre all'interno delle stesse quattro mura non è certo facile per loro e il contendersi l'amore della stessa donna è ancora meno semplice. Nelle ultime ore Alfonso ha visto l'ex tentatore intento a baciare Federica e non l'ha presa bene dando vita a una lite furiosa con Stefano. Il triangolo amoroso formato da Alfonso, Federica e Stefano sta facendo parlare sia gli spettatori a casa che gli altri inquilini della casa del grande fratello. L'entrata di Stefano ha destabilizzato la situazione aumentando la tensione in casa. Alfonso ha visto Federica e Stefano baciarsi e si è ributtato sotto le coperte per non assistere alla scena che lo faceva soffrire. La lite tra Alfonso e Stefano è diventata sempre più accesa con Alfonso che ha accusato Stefano di aver causato problemi alla famiglia di Federica. Stefano ha risposto a tono sottolineando che ha solo condiviso una foto per difendere Federica dalle voci maligne. La tensione tra i due è palpabile e la regia del grande fratello ha preferito cambiare inquadratura per un po' per poi tornare sui due ragazzi ancora intenti a litigare. La situazione tra Alfonso, Federica e Stefano si fa sempre più complicata e il pubblico non vede l'ora di scoprire come si evolverà questa storia all'interno della casa del grande fratello. Restate sintonizzati per tutte le ultime news e aggiornamenti su questo triangolo amoroso che tiene.